Ciao, sono Franz, lo so, non siete abituati a vedere un video dove parlo, però mi è venuta in mente un'idea mentre stavo in bagno a fare i miei bisogni. Siccome sta arrivando Natale, mi è venuto in mente, anche grazie a un'idea di un mio collega zio Giovanni, di fare un video a tema natalizio dove ognuno di voi, ci organizzeremo, dove in 10 secondi massimo, perché dobbiamo tenere il ritmo del canale dove i video sono lunghi, un cazzo di un rospo, se c'hanno il canale, non lo so se c'hanno, praticamente in questi 10 secondi dovete praticamente fare gli auguri e dire Buon Natale o quello che vi pare a tema natalizio e così almeno tiriamo fuori un video carino. Di solito noi facciamo su sto canale gameplay di GTA dove ammazziamo gente, esplode tutto, però ogni tanto è bello variare, quindi dovete mandare i video sulla mia email che troverete in descrizione perché su sto gioco di merda non si può scrivere e poi o me lo mandate su whatsapp se c'avete il mio numero, su telegram se c'avete il mio contatto telegram, me lo mandate sulla casella postale a casa come vi pare e ho melangiato un pacco dalla finestra con un sasso, non lo so e praticamente mi dovete mandare sto video dove fate gli auguri e ciccia spero di riuscirci, la volta scorsa nel fantomatico video dei mille iscritti che dovevo fare il video però è successo, quello è successo, ovvero un cazzo e quindi vorrei tipo fare il video come quel video dei pollici di cento anni fa e voi mi mandate sto video, dite buon natale, ciccia ciccia e dopo metto tutto insieme e uscirà fuori il video più bello di natale del mondo insomma quindi ecco un video velocissimo dove io mi spiego a cazzo di cane e spero che sia abbastanza comprensibile quello che ho detto e vi metto tutte le cose in descrizione almeno vi faciliterà l'invio del video se ci sarà e quindi ecco ciao buona giornata e niente ciao ciao